Nuovo step dell'inchiesta sul presunto voto di scambio e sul patto delle fritture tra Vincenzo Di Luca e i sindaci campani. I militari del nucleo di polizia tributaria e della Guardia di Finanza si sono recati nella giornata di ieri, nella sede della Regione Campania, per acquisire l'eventuale elenco di sindaci che parteciparono all'incontro con il governatore Di Luca durante la campagna per il sì alla riforma, vicenda che ha dato avvia ad un'inchiesta dopo la diffusione dell'audio della riunione. Di Luca invitò con un linguaggio colorito ad impegnarsi attivamente per il voto e, registrato a sua insaputa, disse che occorreva portare i voti e di usare ogni mezzo, anche offrendo gite in barca o fritture di pesce. Si ipotizza per Di Luca il reato di induzione al voto di scambio.